Ciao a tutti e bentrovati, oggi voglio proporvi una ricetta tipicamente autunnale la torta da autunno per eccellenza e per i veri amanti delle castagne ebbene sì, sto parlando del castagnaccio il castagnaccio è una torta molto compatta a base di farina di castagna perfetta per questa stagione autunnale sia per una merenda sia per una fine pasto a volte va bene anche a colazione, perché no? allora gli ingredienti sono semplicissimi parto dicendovi che è una torta vegana quindi non abbiamo dentro né uova, né burro, né latte né nessun tipo di alimento di origine animale quindi è perfetta per un vegano gli ingredienti sono semplicissimi la base, come vi dicevo prima, è farina di castagne mi raccomando se è tacciata fine qualsiasi marca va bene ha un colore leggermente brunastro è normale perché è data dal frutto chiaramente da cui deriva acqua naturale, ve la consiglio a temperatura ambiente va bene anche dal rubinetto poi abbiamo della frutta secca frutta secca io prediligo delle noci, dei pinoli e dell'uva passa l'uva passa ne sono tre varianti c'è l'uva passa turca, l'australiana, la cilena io utilizzo la cilena, ha un chicco come potete vedere leggermente più grosso rispetto all'uvetta sultanina si chiama sultanina, quella turca piccolina potete usare benissimo quello che volete tra gli ingredienti non vedete vi dico solo che ci sarà un goccio d'olio d'oliva che servirà a cospargerlo sopra e io vado ad arricchire il mio castagnaccio anche con delle goccioline di cioccolato al latte le ho trovate e voglio dare quel pizzico di golosità in più chiaramente vanno bene anche fondenti vi sconsiglio le bianche e niente, vediamo come si fa allora allora innanzitutto partiamo mettendo in ammollo le nostre uvetta perché deve essere reidratata come si fa? non si fa altro che metterla in un bicchiere in una ciotola, in un recipiente piccolino tanto non è tantissima e la copriamo fino a coprirla totalmente quindi non nell'intero bicchiere ma fino a raggiungere in questo caso metà bicchiere di acqua tiepida non calda, non fredda, tiepida se volete potete benissimo reidratarla anche con del liquore quindi vi consiglio un marsala o perché no un rum ma non troppo carico altrimenti il vostro castagnaccio prenderà una nota molto più marcata io in questo caso vado a farlo in acqua così è adatto anche a chi non dovesse piacere l'alcol ok, una volta che noi abbiamo coperto la nostra uvetta la lasciamo qui per almeno finché non ci serve con la preparazione altro step prima di iniziare a impastare tutti gli ingredienti è accendere il forno quindi per riscaldarlo a 180 gradi statico se il vostro forno è anche ventilato io vi consiglio di prediligere lo statico non è una torta che deve crescere deve semplicemente risulterare una torta bassa e bella corposa quindi non deve essere né alta né soffice né gonfia assolutamente andiamo quindi poi ad aggiungere la nostra farina di castagne la mettiamo in una bella bacinella capiente alla farina di castagne ho aggiunto un pizzico di sale il pizzico di sale nei dolci che trovate sicuramente in quasi tutte le ricette serve ad esaltare la sapidità quindi in questo caso noi vogliamo esaltare il gusto della castagna e andiamo ad aggiungerlo proprio un pizzico pizzico come se dovesse condire l'insalata alla nostra farina di castagne andiamo ad aggiungere l'acqua nella ricetta del castagnaccio almeno nelle principali troverete sicuramente la quantità di acqua e di farina di castagne in proporzione uguale quindi a 1 a 1 significa stesso quantitativo di acqua stesso quantitativo di farina di castagna se chiaramente avete una farina di castagna che risulta un po' troppo densa e corposa come impasto e non omogeneo allora potete andare ad aggiungere quel tocco in più di acqua ma che siano veramente tra i 10 e i 20 grammi in più non troppo non deve essere troppo liquida e poi andiamo con una frusta a rimescolare il tutto facendo bene attenzione che non si creino grumi eccoci qua mescolando la farina di castagne con l'acqua sentirete subito che sprigiona il profumo della castagna è un profumo particolare alcune volte vi ricorderà dei pani un tipo di pane che viene prodotto in montagna se l'avete mai assaggiato è veramente veramente buonissimo una volta che noi abbiamo ottenuto il nostro composto liscio e omogeneo mi raccomando senza grumi vado a dare quel tocco in più ovvero prima di aggiungere la nostra frutta e le nostre gocce vado ad aggiungere veramente un cucchiaio da zuppa di olio extravergine d'oliva eccoci qua un cucchiaio da zuppa di olio extravergine d'oliva e poi vado ad aggiungere anche un paio di cucchiai di zucchero semolato lo zucchero non è previsto nella ricetta assolutamente lo aggiungo io perché voglio dare un pizzico in più di dolcezza questa torta che è veramente gnocca nel senso buono nel senso che è una torta corposa è una torta che riempie molto sazia molto mescoliamo sempre tutto bene con la frusta stando attenti che non risultino soprattutto gocce d'olio che non siano ben amalgamati e poi passiamo ad utilizzare il nostro lecca padelle con il lecca padelle andiamo ad aggiungere noci e pinoli le noci io utilizzo dei grigli interi potete benissimo mettervi a spezzettarli oppure potete utilizzarli interi come vi piace di più chiaramente sentirete la consistenza sentirete in bocca il griglio non deve scomparire dà anche quella croccantezza che secondo me nelle ricette dei dolci serve sempre la parte croccante è indispensabile nei vari preparazioni sia dolci che salate perché il croccante è quello che dà lo stimolo del piacere al nostro cervello avendo lo stimolo del piacere il nostro cervello è appagato da ciò che mangia facciamo un esempio banalissimo che mi ha insegnato un cuoco un pasticcere seguendo un suo corso le patatine fritte quando le patatine fritte sono belle croccanti ci piacciono un sacco quando sono molli e musce che ormai hanno assorbito tutto l'olio e si sono raffreddate le stesse patatine fritte ci piacciono un po' meno questo perché il nostro cervello non percepisce il gusto della croccantezza proprio il sentore della croccantezza mettiamo le noci mettiamo i pinoli mettiamo le nostre goccioline di cioccolato e per ultimo mettiamo la nostra ovetta nostra ovetta che chiaramente sarà già quasi reidratata la lasciamo per ultimo iniziamo prima a mescolare questi ecco qua se volete una piccola parte di pinoli uvetta e noci e anche goccioline di cioccolato potete lasciarla da parte non amalgamarla la torta per renderla sopra per metterla sopra al vostro stampo andiamo a togliere l'acqua dal nostro bicchiere e utilizziamo l'uvetta avendola fatta con dell'acqua tiepida l'uvetta chiaramente ha assorbito si è reidratata molto più velocemente che utilizzando dell'acqua fredda mescoliamo bene tutto e il nostro composto è pronto come potete vedere il nostro composto è più condimento che composto vero e proprio ma questa è la caratteristica del castagnaccio il castagnaccio è buono perché è ricco di ingredienti siamo pronti per metterlo nel nostro stampo quindi puliamo la nostra postazione e vediamo come procedere allora io ho preso uno stampo da 24 cm di diametro con un bordo ondulato giusto per dare un minimo di decoro e vado a foderarlo con un foglio di carta da forno se preferite potete anche spennellarlo con dell'olio extravergine d'oliva alcune ricette vi diranno così io prediligo il foglio di carta da forno uno perché è il gusto che rilascia la castagna è un pochino particolare quindi magari lo sentite anche nella seconda o terza volta lo stampo anche se lavate la vastoviglie è due perché siete più facilitati a toglierlo quindi siete molto più sicuri e tranquilli che la torta esca dallo stampo andiamo a versare il nostro composto come vi dico sempre il composto va versato al centro e si sparge dopo quindi non vi preoccupate se la nostra carta da forno affonda andiamo a versare il tutto come avete visto io la carta da forno l'ho appoggiata semplicemente sopra dopodiché vado ad adagiarla al meglio spargendo il mio composto su tutta la tortiera ecco come potete vedere quando dovete pulire le capadelle e quindi ce l'avete sporco non fatelo mai sulla tortiera perché rischiate di far bruciare la vostra carta e la vostra teglia se non è coperta completamente dalla carta quindi passatela sempre sul bordo della vostra ciotola tanto è già sporca e poi lo mettete all'interno della vostra torta come potete vedere il nostro stampo è completamente coperto saranno circa due dita di impasto e si possono già vedere tutto il nostro condimento che abbiamo messo quindi anche se noi lo volessimo mettere in superficie per non farlo vedere tutto amalgamato comunque si vede con l'ausilio di una forbice andiamo ad eliminare la carta in eccesso altrimenti brucia e rilascia un cattivo adore sia nel forno sia nella torta e come ultimo passaggio ultimo ingrediente c'è lui uno degli altri protagonisti del nostro castagnaccio ovvero il rosmarino usate il rosmarino fresco oppure io mi compro quando mi compro le erbe le coltivo dopo un po' me le congelo nel mio freezer e il gusto rimane completamente fresco buono e con un profumo veramente aromatico andiamo a spezzettare i nostri aghetti mi raccomando state attenti a toglierli dal gambo non mettete anche il gambo sopra il nostro castagnaccio ne spargiamo qualcuno e darà quel tocco in più che è veramente tipico di questo dolce eccoci qua rosmarino vedere le erbe aromatiche nei dolci è molto raro almeno che si facciano delle cose particolari o lo prevede proprio la ricetta ed è un vero peccato perché secondo me sono proprio degli ingredienti stupendi da usare le spezie le erbe aromatiche e voilà chiaramente io me l'ero lavata già in precedenza voi dategli con una sciacquata se lo comprate fresco ha ancora maggior ragione una volta che il nostro castagnaccio è pronto andiamo ad infornarlo ripeto forno statico 180 gradi centigradi per un 25-30 minuti guardatelo a 20 minuti e se è pronto quindi se è di un bel colorino bello ambrato bello marroncino e si stacca quasi dalla carta da forno vuol dire che la vostra torta è pronta altrimenti la lasciate dentro chiaramente come vi dico sempre dipende da forno a forno andiamo in cottura e voilà il nostro castagnaccio è pronto dopo 30 minuti di cottura come potete vedere il nostro castagnaccio è bello cotto perché in superficie fa delle piccole crepe questo è dato dal fatto che non ci sono né uova né burro ma solamente farina e acqua e quel goccio d'olio infatti vedrete che i contorni saranno leggermente umidi al bordo della vostra tortiera si vedranno benissimo tutte le varie cose che ci sono all'interno si vedranno anche i pezzettini di cioccolato fuso e chiaramente come vi dicevo prima non cresce tanto quindi sarà alta più o meno un dito un dito e mezzo beh se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale passate parola e aspettate il mio prossimo video ciao